La Badessa e le Brache Stasera leggiamo insieme una novella di Boccaccio, del Decameron di Boccaccio, che è la seconda novella della nona giornata del Decameron. Questo che si vede sullo sfondo è un fotogramma tratto dal maraviglioso Boccaccio, dei fratelli Taviani, un film, a episodi ovviamente, nel senso che loro, i fratelli Taviani, hanno messo in pellicola alcune novelle del Decameron di Boccaccio e questa è stata interpretata da Paola Cortellesi, che rappresenta la Badessa, e qui con i denti che digrigna un po', perché arrabbiatissima, con una monaca, con una suora, ma poi vedremo come andrà a finire. Oh, che bello, questi cuoricini che mi arrivano appunto da Instagram, e quindi possiamo senz'altro... Si sente bene, benissimo, ha confermato Giussi. Ok, allora, tanto per incominciare, dobbiamo dire che noi abbiamo già commentato una novella dall'argomento similare. La novella è la novella di Masetto dell'Amporecchio, che si trova a lavorare presso un monastero, appunto femminile, e poi, diciamo, dopo una o due di queste suore che incominciano ad essere sedotte da lui o a sedurre Masetto, alla fine si può dire che tutto il monastero gode dell'amore di questo bel giovane che è Masetto dall'Amporecchio. Si tratta, pertanto, dicevamo, di un argomento simile a quello che tratteremo stasera. Quindi l'amore all'interno di un monastero femminile, dove, come sappiamo, siccome le suore hanno fatto voto di verginità, di castità, di per sé, l'amore con gli uomini non sarebbe assolutamente previsto. Però le suore sono donne. E quindi avviene, avveniva. Boccaccio ce lo racconta, ce lo descrive, però con grande buonarietà. Per esempio, abbiamo notato che in queste novelle in cui a tema sono le suore che, tra virgolette, cadono nel peccato dell'amore, in realtà lui ci presenta queste situazioni, sia quelle di Masetto dall'Amporecchio, che è della terza giornata, la prima novella della terza giornata, sia questa che leggeremo oggi, della Badessa e delle Brache, ce le presenta veramente con tanto affetto. A parte che, sin dal proemio, sappiamo che Boccaccio esprime l'affetto nei confronti delle donne e senza nessun livore anticlericalista, quale invece certe volte si trova quando descrive dei monasteri maschili. A proposito della non aggiornata, noi abbiamo già commentato, o in classe, o appunto in queste video dirette, due novelle di questa non aggiornata, ovviamente anche per, non so come dire, per nostro piacere, abbiamo già scelto le due novelle di Calandrino, perché così abbiamo completato proprio tutta quanta la saga, se vogliamo, di Calandrino, che si snocciola tra l'ottava e la nona giornata. Calandrino Pregno, addirittura Calandrino, che è proprio quella successiva, che segue questa che leggiamo oggi, che addirittura crede a tutto quello che gli dicono gli amici, addirittura che si sente male perché aspetta un figlio, così gli fanno credere, e lui ci crede. E Calandrino è innamorato la quinta novella della non aggiornata, che è anche l'ultima, diciamo delle quattro, dedicate appunto a Calandrino e alla sua brigata di, tra virgolette, suoi amici. Ecco, per quanto riguarda il maraviglioso Boccaccio, si tratta, dicevamo, di un film del 2015 e dove ci sono tanti episodi. Abbiamo messo un cerchio qua proprio sul fotogramma dedicato al retro della copertina di un DVD, del DVD di maraviglioso Boccaccio che ci presenta, dicevamo, un fotogramma di questa badessa interpretata da Paola Cortellesi e di questa suora che si macchia di questo peccato. Bene, credo di averla introdotto a sufficienza questa novella, il nostro veramente prezioso secondo volume di tutte le novelle del Decameron a cura di Vittore Branca, che è il critico che non loderemo mai a sufficienza per quel saggio straordinario che ha dato una svolta a tutta la critica letteraria sulla Decameron di Boccaccio che si intitola Boccaccio medievale e che quindi finalmente fa tabula rasa di ogni, come dire, pretesa critica di un Boccaccio umanista a tutto tondo, perché Boccaccio è almeno altrettanto umanista quanto è medievale. Quanto meno, se non meno umanista e più medievale, come dimostra appunto Vittore Branca. Ma adesso, a bando alle polemiche, andiamo a leggere la seconda novella della nona giornata. Levasi una badessa in fretta e al buio per trovare una sua monaca a lei accusata col suo amante nel letto. Una badessa si sveglia e svegliata dalle altre monache, no? Per andare a scoprire una sua monaca a lei accusata accusata presso di lei. A lei, infatti, questa volta la preposizione A svolge funzione di preposizione locativa col suo amante nel letto, trovata, scoperta, quindi, proprio mentre infrange il voto di virginità e di castità con il suo amante nel letto. Questa monaca. essendo con lei un prete, essendo con la badessa però, un prete a fare esattamente la stessa cosa che faceva quella giovane monaca con quel giovane, credendosi il saltero dei veli aver posto in capo, credendo di aver messo sulla testa il copricapo delle suore che si chiama saltero perché assomiglia molto ad un strumento musicale di forma vagamente triangolare. Le brache del prete vi si pose invece di avere questo salterio sulla testa cioè il velo delle monache aveva le brache del prete con il quale la badessa stava consumando un rapporto amoroso. queste che si intravedono sono come dei grandi mutandoni oggi come oggi si direbbe dei grandi boxer bianchi bianchi come il velo della monaca ma sono proprio come dei piccoli pantaloni di panno maschili nettamente e decisamente maschili e che quindi potrebbero far scoprire il rapporto d'amore che ha lei cioè che ha la badessa con quel prete quindi doppio come dire doppia infrazione dei veti di castità e di verginità infrazione della badessa che addirittura doveva dare l'esempio alle monache ma è la prima ad avere un rapporto con un uomo e infrazione del prete che si accoppia con questa badessa le quali vedendo l'accusata l'accusata cioè la monaca che era stata accolta in flagrante mentre aveva un rapporto con un giovane nella sua cella diciamo così era stata accusata quindi ma lei vedendo queste mutandoni diciamo da uomo sulla testa dell'abbadessa è fatta accorgere e quindi facendo capire all'abbadessa che lei si era accorta di cosa aveva l'abbadessa in testa fu deliberata fu liberata dall'accusa e quindi anche da qualsiasi pena e ebbe agio di starsi col suo amante da quel momento in poi potè stare lei e le altre con i loro amanti dentro le mura del convento come sapete infatti c'è l'abstract cioè all'inizio delle novelle del Decameron c'è sempre la sintesi di quello che è il contenuto della novella perché la gioia diciamo così il piacere della lettura non sta tanto nella della suspense diciamo di come va a finire ma proprio nel come si racconta questa storia già si tacea Filomena evidentemente quella delle dieci dei dieci giovani che ha letto scusate che ha raccontato non letto che ha raccontato la prima novella della nonna giornata è il senno della donna a torsi da dosso coloro li quali amar non volea da tutti era stato commendato insomma commentano i vari giovani della brigata lo sapete sono sette donne e tre uomini commentano insomma il senno della donna perché dovete sapere che la nona giornata è una giornata nella quale i dieci giovani possono raccontare novelle su qualunque argomento non c'è un tema la regina della nona giornata decide di non dare un tema anche se molte delle novelle di questa giornata continuano sull'onda dell'ottava a riferirsi alle beffe quindi agli scherzi comunque stavamo dicendo e così contrario non amor ma pazia era stata tenuta da tutti l'ardita presunzione degli amanti quando la reina a Elissa vezzosamente disse Elissa segui la qual prestamente incominciò quindi anche la prima novella raccontava una storia d'amore ed Elissa è la giovane che adesso incomincerà a raccontare su incitamento della stessa regina cioè della regina sarebbe la giovane che quel giorno è un po' a capo tra virgolette della brigata una brigata democratica soprattutto poi nel racconto delle novelle per ognuna di queste dieci giornate ci sarà o un re o una regina differente carissime donne saviamente si seppe madonna francesca come detto liberar dalla noia sua raccontato nella novella precedente ma una giovane monaca aiutandola alla fortuna se da un soprastante pericolo leggeramente parlando di liberò io adesso racconterò di un'altra donna ma questa volta non di una donna laica ma di una monaca che riuscì a risolvere i suoi problemi leggeramente parlando vuol dire che a differenza della gran parte delle novelle della nona più che di una beffa in questo caso potremmo parlare di un motto e ricorderete che tutta la sesta giornata del Decameron è stata dedicata ai motti cioè vuol dire quindi le arguzie quel dicevamo quel parlare accorto il leggeramente parlando che riesce a liberarti dai guai come non so ricordate non so chicchibio piuttosto che frate cipolla eccetera semplicemente usando la parola il logos e come voi sapete assai sono i quali essendo stoltissimi maestri degli altri si fanno i gastigatori ecco c'è la su boccaccio con i moralisti c'è la su con questi maestri degli altri cioè quelli che si ritengono sono autoritari e pensano di essere dei modelli o comunque delle persone che hanno tutto il diritto di correggere gli altri gastigatori li quali siccome voi potrete comprenderle per la mia novella la fortuna alcuna volta e meritatamente vi tupera proprio questi boriosi questi cattivi maestri poi dopo però vengono svergognati a loro volta perché la sorte vuole così e allora si scopre veramente chi sono questi cattivi maestri che magari nascondono la propria vera indole e ciò addivenne all'abbadessa sotto la cui obbedienza era la monaca della quale debbo dire la nostra abbadessa interpretata da Paola Cortellesi e appunto la come dire la cattiva maestra che sarà un pochettino svergognata sapere dunque dovete in Lombardia essere un famosissimo monastero di santità e di religione cioè religione nel senso di obbedienza alle autorità alle leggi ecclesiastiche nel quale tra le altre donne monache che verano vera una giovane di sangue nobile e di maravigliosa bellezza dotata la quale Isabetta chiamata essendo un dì a un suo parente alla grata venuta cioè queste donne pur essendo diciamo di chiuse in clausura tra l'altro lo sapete più o meno da Bonifaccio VIII in poi tutte le religiose devono sono chiuse in clausura lontane da qualsiasi contatto con il mondo ecco ha dei parenti che vengono a trovarla comunque dietro oltre la grata essendo dicevamo questa monaca un dì a un suo parente alla grata venuta d'un bel giovane che con lui era si innamorò si innamorò di un bel ragazzo di un bel giovane che si trovava insieme ai suoi parenti a visitarla e questo è l'attore che personifica questo bel giovane e esso lei veggendo bellissima già il suo desiderio avendo con gli occhi concetto avendo concepito quindi desiderio di unirsi con lei similmente di lei si accese quindi si innamorano tutte e due la monaca di questo visitatore questo giovane visitatore è il giovane visitatore della monaca e non senza gran pena di ciascuno questo amore un gran tempo senza frutto sostennero quindi non solo si innamorano ma cercano di trovarsi ma non è molto facile dal momento che lei è chiusa in clausura ultimamente essendone ciascuno sollecito venne al giovane veduta una via da potere alla sua monaca occultissimamente andare finalmente trovarono il modo però di incontrarsi di nascosto da tutti di che ella contentandosi non una volta ma molte con gran piacere di ciascuno la visitò e quindi i due si trovano e segnatamente è lui che riesce a entrare nel monastero e ad avere un rapporto con lei ma continuandosi questo avvenne una notte che egli da una delle donne di là dentro fu veduto senza vedersene o egli o ella da Elisabetta partirsi e andarsene quindi non solo quest'altra monaca è riuscita a vedere qui vediamo lo spioncino per esempio nel film a vedere questa scena d'amore comunque contraria alle regole dell'ordine ma lei anche riesce a spiare questa giovane sua collega monaca chiamiamola così e quest'uomo e anche andarsene senza che loro minimamente si accorgano di niente mentre sono dentro insomma a far l'amore l'uno l'uno con l'altra il che costei con alquante altre comunicò questa monaca però non se ne sta zitta anzi comincia a parlare con le altre monache e prima ebbe il consiglio d'accusarla alla badessa la quale madonna usimbalda ebbe nome buona e santa donna secondo la opinion delle donne monache e di chiunque la conoscea ecco tra l'altro decidono anche di coinvolgere la badessa quindi diciamo comunicano fra di loro quello che è successo quella che quella che ha scoperto questi due giovani lo dice anche alle altre e poi si mettono d'accordo di andare dalla badessa e di informarla ciao Giovanni Enrico ciao Anna ciao Noemi questa notate questa badessa era non dico in odore di santità ma ritenuta senz'altro una buona e santa donna poi pensarono queste monache a ciò che la negazione non avesse luogo attenzione però denunciare quest'altra monaca senza coglierla però in flagrante voleva dire che poi lei la parola di una contro la parola dell'altra avrebbe potuto discolparsi avrebbe avuto luogo la negazione cioè che lei avrebbe negato di essere stata insieme con un uomo di volerla far cogliere col giovane alla badessa ecco non ci sarebbe stata una prova più schiacciante se non addirittura che la sorprendessero insieme con la badessa cioè che andassero a sorprenderla insieme con la badessa e così taciutesi tra sé le vigili e le guardie segretamente partirono per incoglier per incoglier costelli quindi andarono dalla badessa e adesso vediamo che cosa succede or non guardandosi l'Isabetta da questo né alcuna cosa sappiendone era convinta infatti l'Isabetta di stare insieme con il suo amante che nessuna si fosse accorta di questo avvenne che ella una notte vel fece venire ah no scusate quindi un'altra notte quindi ah ah cioè è premeditata questa diciamo così questa sorpresa no viene premeditata dalle suore aspettano il momento giusto il momento opportuno un'altra notte in cui magari appunto questo amante ritorna per per avere un'ora d'amore con questa con questa monaca e allora dicevamo il che tantosto sepper quelle che a ciò badavano e quindi immediatamente loro seppero quando sarebbe stata ci sarebbe stata la notte d'amore le quali quando allor parve tempo essendo già buona pezza di notte quindi in piena notte in due si divisero e una parte se ne mise a guardia dell'uscio della cella dell'isabetta e un'altra andò correndo alla camera della badessa quindi loro che si sono messe d'accordo si sono divise una a controllare comunque che isabetta sia insieme con quell'uomo e l'altra invece a chiamare la badessa a fare venire la badessa e picchiando l'uscio quel gruppo di monache che va tra virgolette a svegliare la badessa a lei che già rispondeva dissero su madonna levatevi tosto che noi abbiamo trovato che l'isabetta ha un giovane nella cella cioè ha un giovane nella sua cameretta chiedono alla badessa bussano alla sua cella e le chiedono di svegliarsi presto per andare a cogliere in flagrante l'isabetta insieme con quell'uomo era quella notte la badessa accompagnata ad un prete non era sola però la badessa nella sua cella c'era un uomo anche lei aveva un uomo ed era questo prete il quale ella spesse volte in una cassa si faceva venire cioè questo prete si nascondeva in una cassa la quale udendo questo temendo non temendo non è una costruzione latina timione temendo che forse le monache per troppa fetta o troppo volenterose tanto luscioso spignessero che gli si aprisse spacciatamente si levò suso e come il meglio seppe si vestì al buio la badessa che aveva paura che le monache addirittura aprissero la porta della sua cella si vestì sbrigativamente frettolosamente no perché si vestì al buio oltretutto anche perché aveva paura che altrimenti lei stessa sarebbe stata scoperta e credendosi torre certi veli piegati che sono il salterio il velo delle monache li quali in capo portano e chiamagli il saltero le vennero tolte le bracche del prete invece in realtà lei prende i mutandoni noi diremmo i boxer del prete e se li mette in testa perché erano fatti in maniera tale che non erano poi così dissimili da quel velo che le monache dovevano mettere in testa e tanta fu la fretta che senza vedersene il luogo del saltero le si gittò in capo e uscì fuori e prestamente l'uscio si rinserrò dietro dicendo dov'è questa maladetta da dio le monache hanno detto che questa suora cioè Elisabetta aveva un uomo nella cella e lei adesso veste nuovamente il ruolo della badessa quindi della superiore la madre superiore del convento arrabbiata dice dov'è questa maladetta da dio cioè rimprovera questa monaca come se lei fosse del tutto ligia alla regola del monastero cosa che invece non è come abbiamo spiegato e con l'altre che si focose e si attente erano a dover far trovare in fallo Elisabetta che di cosa che la badessa in capo avesse non si avvedieno attenzione le altre erano talmente concentrate anche notte insomma che non si erano minimamente accorte che la badessa in testa non aveva il loro solito velo giunse all'uscio della cella e quello dall'altra aiutata pinse in terra entrate dentro nel letto trovarono i due amanti abbracciati trovarono quindi proprio i due amanti che erano proprio nel pieno dell'amore ecco quando sono i due amanti sorpresi dalle altre monache compresa la badessa li quali da così subito sopraprendimento storditi non sapendo che farsi stettero fermi non potevano nascondere più nulla loro due erano stati presi proprio nel pieno diciamo del loro abbraccio d'amore la giovane fu incontanente dall'altra monache presa e per comandamento della badessa menata in capitolo quindi portata subito in capitolo il capitolo era un locale del monastere che era adibito alle loro assemblee alle loro riunioni incontri di importanza che potevano essere di carattere religioso ma quasi quasi anche dei piccoli processi come quello che si prospetta per la nostra povera Isabetta il giovane si era rimasto era rimasto lì e vestitosi aspettava di vedere che fine la cosa avesse con intenzione di fare un mal gioco a quante junior ne potesse se alla sua giovane novità nuna fosse fatta e di lei menarne con seco ah tra l'altro il giovane ha deciso di rimanere lì anche perché non vuole che facciano del male alla sua donna ricordate questo particolare che noi abbiamo sottolineato evidenziato e lo facciamo ancora una volta lui ama lei e lei ama lui e sono innamorati l'uno dell'altra quindi lui è preoccupatissimo della pena che può capitare alla sua amante l'abadessa postasi a sedere in capitolo in presenza di tutte le monache ah ecco qua intanto l'abadessa che ha accolto in flagrante i due amanti e che ha già iniziato a rimproverare la nostra Isabetta poi eccola qua in capitolo in presenza di tutte le monache le quali solamente alla colpevole riguardavano cioè tutte le monache non soffermavano la loro attenzione sul copricapo che aveva in testa l'abadessa ma erano tutte concentrate e anche sdegnose nei confronti proprio di Isabetta incominciò a dirle la maggior vilania che mai affemina fosse detta l'abadessa incomincia a rimproverare aspramente Isabetta siccome a colei la quale la santità l'onestà la buona fama del monastero con le sue sconce e vituperevoli opere se di forse sapesse contaminate avea ecco la gravità del peccato di Isabetta che ormai stava svergognando tutto quanto il monastero quindi ce l'aveva l'abadessa con lei perché stava facendo fare una bruttissima figura a tutte loro e dietro la villania aggiunia gravissime minacce stava meritando come fargliela pagare insomma a questa monaca tutta presa dicevamo dal suo ruolo di badessa la giovane vergognosa e timida si come colpevole non sapeva che si rispondere ma tacendo di sé metteva compassione nell'altre e moltiplicando pur la badessa in novelle venne ecco attenzione qua nel film c'è un particolare che qui lo vedete il capitolo con le suore nel film c'è un particolare che non si trova assolutamente nella novella di boccaccio cioè il fatto che la donna fosse costretta a inginocchiarsi ci fosse già una pena invece nella novella non arriviamo ancora a nessuna pena nel film invece lei si inginocchia sopra delle nocciole dicevamo quindi comunque che a un certo punto arriva il momento in cui lei alza gli occhi proprio verso la badessa allora dicevamo oh babà incominciati nella mia giovedì la quale la giovane vergognosa e timida siccome colpevole non sapeva che si rispondere ma tacendo di sé metteva compassione nell'altra e moltiplicando pur la badessa in novelle venne alla giovane alzato il viso e veduto ciò che la badessa aveva in capo e gli usulieri gli usulieri sarebbero i legacci con i quali si fermavano le brache delle calzature ecco andiamo con questa diapositiva a segnare con un cerchio proprio questi usulieri che dimostrano che quel pezzo di stoffa non è assolutamente il velo delle monache ma è una braca diciamo sono delle brache volevo dire al plurale delle mutande di un uomo perché queste erano all'epoca le mutande che si metteva un uomo che poi si poteva legare appunto con questi usulieri che di qua e di là pendevano ecco verdiamo abbiamo fatto come dire fatto anche degli zoom su questi usulieri su questi benedetti legacci che si trovano in fondo a questi pantaloni chiamiamoli così o mutandoni meglio di che ella avvisando ciò che era tutta l'assicurata disse madonna se Dio va aiuti annodatevi la cuffia e posciami dite ciò che voi volete a questo punto dicevamo che la monaca intravede questi mutandoni insomma queste brache da uomo e si rivolge così all'abbadessa annodatevi la cuffia ecco effettivamente le monache avevano una cuffia si mettevano una cuffia sulla testa prima le abbiamo viste alcune monache con la cuffia le vedete queste qua queste monache benissimo annodatevi la cuffia l'abbadessa che non la intendeva disse che cuffia rea femmina quindi tutta infervorata da questo furore vendicativo della superiore che vuole che vuole umiliare e dare una una brutta come dire una brutta lezione ecco non mi veniva il termine una brutta lezione alla sua monaca sottoposta non capisce ancora che cosa le ha detto lei che cuffia rea femmina ora hai tu viso da motteggiare tu ti metti qui a a fare non so delle delle battute di spirito di che cuffia stai parlando tra l'altro penso che la cuffia ce l'avessero delle suore ma non l'abbadessa che aveva invece un velo molto più ampio parti egli aver fatta cosa che i motti ci abbia luogo ti sembra proprio il caso di metterti a far barzellette insomma a dire delle battute allora il giovane un'altra volta disse madonna io vi priego che voi vanno diate la cuffia poi dite a me ciò che vi piace la onde molte delle monache levarono il viso al capo dell'abbadessa e ella similmente ponendovisi le mani s'accorsero perché l'isabetta così diceva ecco questa scena è resa proprio dalla cortellese insomma dai fratelli tabiani i registi in questo modo cioè lei senza guardare queste brache che ha in testa ma controllando con le mani che effettivamente c'erano questi legacci i famosi usulieri di cui abbiamo parlato prima si rende conto di essersi messa in testa le mutande del prete e non il velo che doveva mettersi in testa quando in fretta e furia è stata chiamata dalle monache di che l'abbadessa ha vedutasi del suo medesimo fallo e vedendo che da tutte veduto era ne aveva ricoperta cioè non aveva la possibilità di nascondere la cosa mutò sermone e in tutta altra guisa che fatto non aveva cominciò a parlare con un viso molto più gioviale meno irato di quanto invece era prima il suo viso e conchiudendo venne impossibile essere potersi dagli stimoli della carne difendere fa una specie di sermone laico l'abbadessa e dice non ci si può difendere dagli stimoli della carne e perciò chetamente come infino a quel di fatto sera disse che ciascuna si desse buon tempo quando potesse ecco qui vorrei richiamare un verso della divina commedia di dante addirittura si parla nel quinto canto dell'inferno il famoso canto di paolo e francesca si parla prima della schiera dei lussuriosi e delle lussuriose tra le quali emerge semiramide una regina la quale libito felicito in sua legge cioè praticamente fece una legge una disposizione per cui da quel momento in poi era concesso qualsiasi tipo di sfrenatezza sessuale in questo modo anche lei era libera da ogni accusa ed è la stessa cosa che fa l'abbadessa l'abbadessa dice prendetevi buon tempo che vuol dire avete un uomo anche voi bene incontratevi con lui non ve lo impedisco più da questo momento in poi avete capito io stessa sono scoperta io l'isabetta continueremo a incontrarci con i nostri uomini se volete lo potete fare anche voi è liberata la giovane col suo prete si tornò a dormire e l'isabetta col suo amante il qual poi molte volte in dispetto di quelle che di lei avevano invidia vi fai venire l'altre che senza amante erano come seppero il meglio segretamente procacciarono l'orventura e sì perché anche le altre suore non volevano essere da meno a questo punto e quindi anche loro si procurarono un uomo così termina la seconda novella della non aggiornata è arrivato il momento adesso però di riflettere un po' su questa novella dobbiamo dire che già in un'altra novella a parte Masetto da Lamporecchio l'abbiamo già parlato prima l'abbiamo già spiegata su youtube è una novella in cui poi tutte le suore si mettono a fare l'amore però con un solo uomo cioè questo Masetto da Lamporecchio che faceva un po' quasi da giardiniere del monastero invece nella giornata prima novella quarta abbiamo praticamente una trama molto molto simile a quella che abbiamo appena letto spiegato eccetera infatti dice proprio l'abstract diciamo così il sunto della novella un monaco caduto in peccato degno di gravissima punizione onestamente rimproverando al suo abate quella medesima colpa si libera dalla pena quindi per farla breve si tratta in buona sostanza dello stesso intreccio a grandi linee della novella che abbiamo appena letto solo che è in un monastero maschile e la prospettiva è completamente diversa perché là questi incontri d'amore questi incontri volevo dire sessuali meglio avvengono appunto per soddisfare un desiderio sessuale non per amore anche masetto da lamporecchio se vogliamo invece abbiamo sottolineato il fatto che Isabetta e il suo uomo si amano sono innamorati l'uno dell'altro inoltre la cosa non diventa legge come invece accade sia nel caso del monastero di Masetto da Lamporecchio dove lui era il giardiniere di un monastero femminile sia nel nostro monastero in Lombardia così almeno sapete lui era toscano non poteva parlare male della Toscana no? e allora insomma spesso si faceva così si faceva così nelle commedie oppure nei testi comici quando si doveva dire male di qualcuno lo si ambientava in un luogo lontano dalla propria terra alla quale campaninisticamente uno era legato dicevamo che in questo caso però la cosa non diventa legge rimane un fatto privato anzi diciamo che in quel caso l'abate insomma e anche questo monaco hanno come una sorta di tacito accordo fra di loro di non dire niente a nessuno di quello che fanno con una donna capite invece è molto bella la novella che abbiamo appena detto perché appunto in questo caso invece la legge dell'amore prevale su tutto e abbiamo la normalizzazione della trasgressione una pacificazione per cui se ci sono come dire asti risentimenti in questa novella dove c'è il monastero maschile più o meno rimangono un po' e anche sospetti e minacce implicite è un po' come nella guerra fredda no? questo abate questo monaco decidono di non farsi più guerra solo perché se iniziasse la guerra ci rimetterebbero sia l'uno sia l'altro invece nel caso della novella che abbiamo appena letto abbiamo una pacificazione persino con quelle pettegole bigotte pronte solo ad accusare che alla fine anche loro godono di questa nuova legge comune e possono anche loro trovarsi con i loro uomini la cattiva maestra cioè la nostra badessa quando non si atteggia in modo severo per il suo ruolo appare non solo una donna come tutte le altre ma appare anche in grado con questa nuova legge dell'amore del monastero di trovare di creare le condizioni dicevamo per la pace e per l'amore di tutto quanto il monastero quindi quella badessa che fino ad allora era stata un personaggio negativo dicevamo la cattiva maestra appunto con questa sua decisione finale con questo suo discorso finale in cui libera l'amore nel monastero invece a noi appare sicuramente riscattarsi insomma la legge dell'amore come abbiamo già detto ma c'è una grande differenza ovviamente con dante pensate appunto a dante che comunque anche se si tratta di peccati minori addirittura come dire considera un venir meno al voto anche quando una donna è costretta dagli altri uomini a venir meno a questo voto di castità come accade a Piccarda Donati e Costanza d'Altavilla grande differenza con Manzoni lì la sventurata rispose cioè la monaca di Monza risponde ad Egidio e lì è veramente solo una tragedia quando una monaca è un uomo lontano dal monastero anche lui magari come il nostro masetto che frequenta il monastero per dare una mano al monastero si accoppia con una monaca solo disastri solo disgrazie addirittura un omicidio qui invece la legge della natura che è ampiamente direi giustificata è evidente che emerge quindi un'idea di questo genere è vero che uno fa delle promesse davanti a Dio ma la natura è una la natura di uomo o di donna non è diversa tra quelli che si trovano dentro un monastero o fuori dal monastero anche l'amore è un dono di Dio l'atto sessuale è l'espressione più alta dell'amore ecco quello che ci vuol dire forse implicitamente boccaccio con questa novella che abbiamo letto e commentato insieme è l'espressione Grazie a tutti